Vota il campione continua a mietere record. È infatti una pioggia di schede quella che si è abbattuta sulla nostra redazione. Superato il muro dei 100.000 voti, prosegue la caccia al tagliando che ogni giorno è possibile ritagliare dal quotidiano libertà per votare il giocatore o l'allenatore preferito. Chi di questi ormai preziosissimi coupon ha fatto incetta è Enea Pietra, il dominatore assoluto della classifica nella categoria allievi. Sono oltre 6.000 le preferenze ottenute dal talentino del gotico Garibaldina. Il numero 10, sono uno che piace giocare dietro una punta, piace giocare palla al piede, non tanta corsa ma abbastanza qualità. Il calcio è una cosa molto importante. Tra dieci anni, oltre al calcio, spero che ci sia qualcos'altro nella mia vita, spero di laurearmi. Il mio campione preferito è Del Piero. Io sono tifoso giuventino fin dalla nascita, ho visto giocare Del Piero quasi tutte le sue partite. Oltre ad essere un grande calciatore, è anche un grande uomo. Gioco nel gotico da tre anni, è una società che mi trovo veramente bene, sia a livello tecnico ma anche a livello umano. Voglio intanto cogliere l'occasione per ringraziarla per questi bei tre anni e anche perché ieri finalmente ho esordito in prima categoria e sono molto contento. Esordio in prima squadra e primo posto in classifica, la stagione di Enea Pietra non conosce pause e nei prossimi giorni su Libertà sorprese in vista.